Prof. Ravolio, geolinguistica, sociolinguistica, etnolinguistica, di cosa parliamo quando nominiamo queste discipline? Parliamo di branche della ricerca linguistica che si occupano in primo luogo delle lingue locali, quelle che noi chiamiamo per una convenzione cinquecentesca dialetti, ma che lingue sono, non sono altro. In particolare la geolinguistica studia la distribuzione dei fenomeni linguistici nello spazio, perché questo ci può dare informazioni anche sulla loro cronologia e sulla loro natura, quindi è un modo per ricostruire la storia linguistica del territorio. Mentre l'etnolinguistica studia il modo con cui la lingua ci aiuta a entrare nella rappresentazione culturale che una certa comunità ha del mondo, insomma nella sua visione del mondo, che è diversa da quelle di altre comunità. E infine la sociolinguistica è quella che studia i fenomeni di variazione, tutte le lingue hanno la capacità di variare e di dire in molti modi la stessa cosa. Come si colloca la varietà dei dialetti, delle lingue abruzzesi nel contesto italiano che già di per sé ha una grandissima varietà rispetto ad altri paesi europei? Certamente, il contesto italiano è estremamente diversificato, ma la conca aquilana ha la caratteristica di essere una sorta di concentrato delle caratteristiche di tutto l'Appennino centro-meridionale, perché qui vengono a contatto e interferiscono tra di loro due gruppi affini ma diversi. Il gruppo mediano o anche sabino, che si trova per esempio nell'Alto Aterno, nel contado storico amiternino della città dell'Aquila, e le varietà di tipo vestino, che sono invece nel contado storicamente forconese, quindi sono a sud-est della città, e si raccordano per molte caratteristiche fonetiche, non solo invece ai dialetti meridionali. Questi due gruppi entrano in contatto tra di loro e quindi disegnano questo quadro geolinguistico di eccezionale interesse. In base alla sua esperienza, com'è cambiato il rapporto delle giovani generazioni con i dialetti? Li parlano ancora loro abituati a crescere in mezzo ad anglicismi, foresterismi, termini derivati dal gergo anche tecnologico? Sì, si dice da tanto tempo che i dialetti stanno sparendo, dopo l'Unità d'Italia. In realtà siamo arrivati al 2022 e ancora non sono spariti, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Ma in particolare per quanto riguarda i giovani, possiamo affermare che molti di loro spesso ricorrono al dialetto senza a volte neanche rendersene conto, oppure viceversa lo usano per particolari finalità espressive, per dare un particolare accento vivace al loro linguaggio. La riprova di tutto questo oggi ci è data dai social, perché i social sono una sorta di gigantesca piazza virtuale in cui cadono molte inibizioni e i ragazzi scrivono come parlano e se parlano dialetto, ecco che il dialetto compare anche nello scritto. Grazie a tutti.